Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio, episodio 5 di questa serie di Silviembre 2023. Oggi parliamo della tematica del benessere, sempre parte dei vari percorsi di Bloomwell, perché per noi il benessere è a 360 gradi e parliamo di qualcosa che mette un pochino insieme tutto, che è Mindful Eating. So che è una tematica che vi sta molto a cuore, sinceramente anche a me, sono anni che ne parlo, ve ne parlo, che l'ho scoperta, che l'ho capita, che l'ho adottata con fatica, più o meno sì, no, a volte sì, a volte no, ma insomma Mindful Eating. Iniziamo con un piccolo accenno di che cosa è la Mindful Eating. Ovviamente anche oggi mi rifaccio ai percorsi delle nostre coach, in questo caso di Melissa, che è la nostra Mindful Eating coach. E partirei dalla definizione di Mindful Eating. Mindful Eating letteralmente significa mangiare con presenza mentale, significa portare pienamente e volontariamente la nostra attenzione al momento del mangiare. Quindi significa esercitare la nostra consapevolezza durante ogni fase, che va dalla comparsa dello stimolo della fame, quindi Mindful Eating non è solo mangiare consapevole, cioè oh sto mangiando, ma parte dalla comparsa dello stimolo della fame, passa per come scegliamo i cibi, fino al come ci godiamo ogni sorso e ogni morso. Quindi significa sintonizzarsi col momento presente e apprezzare il cibo a livello sensoriale e in pace con la nostra coscienza. Significa accettare senza giudicarci le emozioni che sorgono in noi mentre mangiamo anche quando possono essere spiacevoli. Per me è molto importante parlare di Mindful Eating perché viviamo in una società, in una cultura dove siamo costantemente bombardati dal cibo, dal mangiare e il cibo è veramente diventato una parte troppo importante delle nostre vite. Io stessa ho per mie vicissitudini personali che tutti conoscete perso il senso della fame e riacquistarlo è stato e non lo nego ancora è veramente difficile perché noi nasciamo con il senso della fame. Cioè noi da bambini, sicuramente se osservate i bambini, loro sanno quando hanno fame e quando devono smettere. Non sono condizionati da quelli che io definisco perbenismi della società con i quali siamo cresciuti. Cioè a loro non importa se viene lasciato qualcosa nel piatto perché non hanno più fame, non lo devono mangiare a forza. A loro non non importa che un alimento sia troppo calorico, troppo che abbia troppi grassi, troppi carboidrati, troppe proteine. Loro sono naturalmente dal loro corpo guidati verso ciò in cui il corpo ha bisogno. Un bambino che viene lasciato libero di mangiare ciò di cui sente non mangerà sempre solo frutta quindi zuccheri e dolce ma dopo aver mangiato la frutta magari il suo corpo dirà ok ora però ho voglia di più proteine perché è una cosa naturale alla quale purtroppo noi siamo stati disabituati. Vuoi per quando crescendo ci veniva messo un piatto davanti mangia tutto perché dall'altra parte del mondo voglio di fame. Oppure mangia tutto a nonna così mi fai piacere e per far felici tutti. Oppure crescendo ora in realtà perché abbiamo scoperto l'acqua, i macronutrienti, le calorie che devono essere ingerite, il nostro fabbisogno calorico giornaliero bla 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 bla. Cose che ci condizionano nel mangiare. Ora noi mangiamo più perché dobbiamo, più perché abbiamo l'orario del pranzo e quindi anche se tu non hai fame in quell'orario devi mangiare dalle 1 alle 2. Se tu avevi fame a mezzogiorno devi mangiare all'una. Se tu non hai fame all'una devi mangiare all'una perché poi non puoi mangiare alle 4 orari di lavoro eccetera. Quindi ci sono dei condizionamenti della nostra cultura che ci hanno portato e ci portano a non essere mai troppo in contatto con i veri nostri bisogni e desideri e sensazioni. Qui entra la mindful eating che ci tengo a precisare già da subito. Non consiste nel a ogni pasto, momento zen, ti metti lì, guardi, controlli, fai tutti gli step di cui dopo parleremo. Perché non sarebbe normale. Vi immaginate che siete al lavoro in mensa? Allora tutti concentrati cosa stiamo guardando? Ovviamente no. È una cosa che deve diventare parte di noi ma anche soprattutto essere applicata il più possibile ragionevolmente. Questo piccolo grande preambolo per iniziare ad affrontare la domanda perché è rilevante parlare di mindful eating in questo video di Silviembre. Quindi medio di ripartenza da settembre si ricomincia. Perché molto spesso nel momento in cui si vuole ritornare alla routine, ricominciare e riprendersi in mano il proprio fitness eccetera, ci si mette la pressione di doversi mettere a dieta perché bisogna rimediare i bagordi estivi, invernali, bisogna sempre rimediare e soprattutto quando ci si vuole mettere a dieta si deve passare sempre perché figurati da mille a zero. Cioè chi torna dalle vacanze basta da domani insalata, scondita, triste, perché bisogna rimediare. Soprattutto questo comporta delle imposizioni e zero ascolto. Quindi mindfulness presa e buttata. Quindi il motivo di questo video è quello di riuscire a darvi un piccolo insight, un piccolo consiglio, un piccolo esercizio per poter applicare il mindful eating nella vostra vita con calma in modo da riuscire ad arrivare a ottobre almeno. Diamoci questo limite, diamoci questo obiettivo con il nostro nuovo approccio alla dieta perché con un approccio da mille a zero, da zero a mille non si arriva nemmeno a metà settembre. Quindi con calma vediamo di che cosa si tratta l'esercizio di oggi. Come vi dicevo uno dei primi step del processo della degustazione nel modo mindful del proprio pranzo è la valutazione del senso di fame. Quindi vogliamo mangiare. Un secondo, ci poniamo due domande. Perché voglio mangiare? Ho fame? Da quant'è che non mangio? Ho veramente fame o è l'una? Devo mangiare perché si mangia l'una? Ho fame o ho sete? Da quant'è che non bevo? Cioè prima di buttarsi nel piatto o di testa nel frigo, fermiamoci due microsecondi per chiederci perché ho fame. Se effettivamente non mangio da x ore ho fame, cioè ho lo stomaco che è lì che mi ha, boh, step 2, mangiamo. Iniziamo a pensare di mangiare. Se effettivamente rifletto e dico ma boh, cioè che ne so, solitamente si fa merenda alle 4, sono un po' annoiata, che faccio? Mangio? Ma sì, mangio, che se ne frega. Magari lì proviamo a riflettere, cioè bevo un bicchier d'acqua, bene, non ho ancora fame, mi annoio ancora, mi svago un attimo, mi metto a lavorare, eccetera. No, io ho fame, ho la testa lì, boh, allora mangio, ok? Primo step, valutare il proprio senso della fame. Secondo step, preparazione. Preparazione è anche parte del processo di Mindful Eating di un piatto, quindi anche il tagliare le verdure, preparare, andare a prendere gli ingredienti, sentire i profumi mentre si cucina, è parte del consumare un piatto in modo consapevole, perché ti permette di iniziare ad assaporare, iniziare a pregustare e soprattutto anche sviluppare la tua fame, perché incominci a sentire i profumi, gli odori e hai anche il modo di scegliere determinati ingredienti per sentire che ti stai prendendo cura di te. Quindi poniamo un pochino di attenzione al momento della preparazione, ovvio se siamo in mensa, se siamo dalla nonna, dalla mamma, dalla zia, dalla nipote, magari non è l'esercizio da fare in quel preciso istante. Proviamo, provate a farlo magari quando una sera siete a casa da sole, vostra compagna, vostra compagna e state cucinando, cioè godetevi quel momento della preparazione del piatto. Finita la preparazione, arriviamo alla degustazione. Prima di tuffarci di testa nel nostro piatto che abbiamo pensato, abbiamo preparato, ora ce l'abbiamo davanti, quindi un secondo, vediamoci un secondo, per attivare tutti i nostri cinque sensi. Quindi olfatto, quello check, abbiamo, sentiamo il profumo del nostro piatto. Vista, sono i primi due che attiviamo, vediamo il nostro piatto, ci fa fame, possiamo mangiare, boom, iniziamo a mangiare. Abbiamo il tatto, magari riusciamo a avere una fetta di pane, sentire la consistenza sotto le mani, tatto in realtà anche bite, quindi sentiamo la fetta di pane, ad esempio crunch, crunch che attiva anche l'udito. Quindi ascoltiamo anche il nostro piatto. Una cosa che facciamo troppo spesso, anch'io, è mangiare guardando la televisione con qualcosa nelle cuffie. Quello para totalmente il senso dell'udito, che fa parte del mangiare il piatto in modo consapevole. E ovviamente attiviamo il gusto, quello speriamo ci sia nella preparazione del nostro piatto, perché se no non siamo troppo bravi in cucina. Quindi ovviamente, ripeto, lo ripeto perché a volte sembra che uno deve mangiare tipo... Guarda la musichetta... No, ovviamente quando possibile proviamo a prestarci attenzione. Noi, tutte queste cose che vi dico, vorrei che vi rimanessero lì. Cioè non è che devono essere delle imposizioni, delle cose... Dio no, adesso devo fare... No! L'idea è quella di tenere dentro la testa questi pensieri, questa cosa... Ah, guarda, è vero, la sensazione di fame... Ah, già, il gusto... Ah, l'olfatto... E piano piano, con calma, applicarle nella nostra vita. Infine, l'ultimo step, che magari è quello un pochino più difficile, è il senso della gratitudine. Quindi cogliere un momento, durante o anche al termine del nostro pasto, per fermarsi un secondo e dire... Ah, che buono questo piatto! Ah, ma ti piace? Magari stiamo mangiando qualcun altro... E proprio fermarsi e apprezzare il fatto di avere un bel pasto davanti. Quindi, non lo ripeto che sono cose da fare step by step, ma soprattutto da integrare piano piano nel retro della nostra testa. Io vi lascio con questa moltitudine di pensieri. Spero che proviate veramente a fare almeno un pasto in modo mindful. Provateci! Poi, all'inizio sembrerà molto schematico e difficile. Poi, vi prometto che piano piano riuscirete a integrare uno, due, tre cose con costanza, ma soprattutto con naturalità, in modo che possiate farlo anche quando siete in delle situazioni rumorose in mezzo alla gente, alla mensa, al lavoro, eccetera. Ok? Quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi sia utile. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Silviembre. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo in un prossimo episodio! Ciao ciao! Muach!